tanto Gaia che aspettavo eh sì vabbè non ci sono parole per descrivere l'emozione e la felicità che stiamo provando è stato un percorso lungo, intenso e ci meritiamo anche questo risultato perché davvero ci siamo impegnate tutta l'estate e questo è il risultato, siamo un bellissimo gruppo e l'abbiamo dimostrato fino anche oggi è sembrato quasi facile questa finale, almeno la tribù insomma noi siamo state, facile sicuramente no, è che noi siamo state brave a tenere in testa loro anche nei momenti in cui magari erano un po' più determinate di noi siamo state brave perché non è sempre facile, siamo stati più determinati di loro e questo ha fatto la differenza e punite durante il gioco quanto pesa quest'oro per questo movimento, per la storia della nostra palla blu? eh tantissimo, siamo passate alla storia, c'è qualcosa di straordinario che non si può descrivere quindi che dire? Gaia, una dedica? eh grazie a tutti, è stato un percorso bellissimo e vi voglio bene di quanto lavora?